Ciao! Oggi sono a Cervignano del Priuli e voglio farti vedere questo appartamento al primo piano. Ce l'è a tutte, ristrutturato con finiture pazzesche. Arredato, volendo, mettendoci vicino una cifra, ce l'hai tutto arredato. Spazi pazzeschi! Cosa aspetti? Vieni che te lo faccio vedere. Andiamo! Spazi pazzeschi! Spazi pazzeschi! Spazi pazzeschi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.